Ciao raga, ciao, 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 ok, vi ho salutati, ok, la prima cosa che devo fare l'ho fatta, perché quando uno inizia un video deve salutare, questo l'ho fatta, e vabbè, bentornati in questa serie, in cui praticamente inizio il video senza avere nulla da dire, e poi inizio a dire cose a caso, e poi si scopre che magari dicendo cose a caso viene fuori qualcosa di utilissimo, tipo, non lo so, le cose utili sono più utili delle cose non utili, questa è una cosa utile, cioè, l'avervi detto che le cose utili sono più utili delle cose non utili, è una cosa utile, ma comunque, comunque, in questo video, volevo parlare di una cosa, di una cosa, cioè del ritorno di Ifpalboy su YouTube, allora, se non conoscete Ifpalboy, è un canale YouTube di uno che si chiama Ifpalboy, ok, questo è il modo che ho per descrivervelo, se non è chiaro non so che dirvi, perché non penso che si possa descrivere una cosa meglio di come l'ho appena fatto, e vabbè, praticamente, era tipo tre anni che non faceva video, ed è tornato, e, boh, è tipo, non lo so, tipo, ciao raga, sono il più figo del mondo, cioè, ciao raga, non so nemmeno come commentarlo, raga, perché è troppo strano come situazione, cioè, tipo, era scomparso per tre anni, e poi è tornato, tipo, tutto strato e pettaro, che poi alla fine che gli vuoi dire, cioè, nel senso, è importante che si diverta lui, però, però, cioè, non lo so, non lo so, non mi aspettavo che fosse diventata la persona che ha diventato, che poi si stica, cioè, nel senso, cavoli suoi, no? e, quindi, niente, il senso, il senso del discorso è che, niente, è inutile che voi diciate la vostra su qualcun altro, perché alla fine stica, vabbè, alla fine del video, ciao 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 ciao